Ben tornati a tutti. Oggi è lunedì, 9 ottobre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Lunedì al lavoro. Al lavoro e questo non significa necessariamente in azienda, ma se avete arretrati da portare avanti o ricerchi da fare, elaborati da rivedere, date un'occhiata al meteo, approfittando dei momenti di pioggere la autunnale per adempire a questa necessità. Altro tempo lo dedicherete alla casa, alla famiglia, oppure a voi stessi, prendendovi cura del vostro corpo e della vostra bellezza. A raccontarlo Mercurio in sesta casa, illuminato dal sole bilancino, mentre la luna, addolcita dalla presenza di Venere, per l'ultimo giorno in Leone, pone l'accento sui vostri cari, l'appartamento da riassettare se non avete avuto modo di farlo prima o da abbellire con la vostra mano fatata del fai da te. E quello che vale per la casa vale anche per il corpo, che è la casa dell'anima, pelle, capelli, unghie, oggi saranno oggetto delle vostre coccole, volersi bene il primo step per volerne anche agli altri. L'amore tende a consolidarsi con il contributo di entrambi i partner ma in special modo di uno. Tutto si dispone per una novità importante e decisiva che potrebbe sovvenire improvvisamente, fidanzamento, convivenza, matrimonio, ma anche un nuovo modo di affrontare tutti i problemi e qualcuno in particolare. Si sincero è leale anche con chi pensi che non lo sia, la sincerità ripaga sempre anche se talvolta fa soffrire. Mettetevi l'animo in pace, qualcuno che vi piacerebbe rivedere sta tardando e ci sono buone probabilità che si faccia attendere oltre il dovuto. Amori a distanza con qualche difficoltà, se il vostro partner è lontano non lo sia il vostro cuore. Potrebbero esserci evidenti difficoltà nel comunicare oggi a causa di un mercurio agitato che non facilita i rapporti a distanza. Oggi fate le scelte giuste anche se alcune potrebbero risultare dolorose o imbarazzanti. Il vostro morale potrebbe giovarsene e potreste iniziare una nuova vita. Un periodo in cui conteranno le cose di valore, quindi guardati dallo sciuparle o dallo spreco. Abbondanza di amicizia, ma quella vera è sempre rara. Fate in modo che qualcuno non si accorga che lo state aiutando. Ricordate che il vero aiuto è quello sincero e disinteressato. Ma soprattutto discreto. Sul piatto della bilancia pesano i problemi irrisolti che vi siete trascinati contando di risolverli in momenti successivi. Ora appaiono in tutta la loro reale dimensione e alcuni di questi potrebbero schiacciarvi. Cercate di risolverne almeno qualcuno, di quelli più urgenti. Oggi avete tante possibilità di prendere il meglio delle persone che vi stanno intorno. Cercate di apprezzare quello che fanno per voi e pensate a ricambiarle sempre in modo affettuoso. Quanta pace oggi potrebbe attraversare il vostro cuore. Solo che dovrete risolvere alcuni problemi di rapporti con gli altri. Chiarite quanto ritenete opportuno chiarire, ma non siate troppo intransigenti con gli altri. Siate dispondili ad ascoltarli e a chiarire con loro ogni particolare. Venere contrasta ancora la terza decade, fate attenzione a non fare passi più lunghi della gamba e non fidatevi di chi vi promette facili guadagni. La giornata inizia un po' in salita, ma si conclude con un'atmosfera particolarmente rilassata e gioiosa. Gli amici del toro della seconda decade si godono i favori dell'astro dell'ottimismo, Giove. Per loro si può aprire una fase in cui le buone occasioni in ogni campo si moltiplicano e le strade per compiere scelte azzeccate appaiono facili e ben delineate. Sentirsi in risonanza con l'ambiente circostante è la vostra soddisfazione migliore, quella che vi consente di dedicarvi ai vostri piaceri come le passeggiate e, se possibile, a un'attività fisica che non sia troppo stancante. Al lavoro anche oggi? Che jella, ma se avete un turno o un progetto da sviluppare in proprio non resta che incrociare le dita e sperare che piova. Ecco l'effetto di Mercurio in sesta casa, che però, ricordatelo, non è esclusivamente la lavoratrice, vi parla anche di benessere, di ecologia, di animali. Se il meteo non è dei migliori nessun problema, la casa accogliente ma un po' caotica riclama il vostro intervento, di lavori di fino volendo da fare ce n'è sempre, ordinari e straordinari, accoglò. Amore ed Eros. Gelosia feroce, in realtà il partner, stavolta innocente, ce la mette tutta per farvi ragionare con report rassicuranti delle sue giornate e delle sue frequentazioni. Insomma vorrebbe far luce e starebbe quasi per riuscirci, non fosse per l'intervento a sproposito della sua cara mammina che, anziché ripristinare la pace, porta in casa nuovi motivi di subbuglio. Meno male che qualcuno di intelligente c'è, un giudice imparziale che finalmente foga tutti i dubbi e dà a ciascuno la sua giusta ragione. Lavoro e denaro. Per turno o per necessità non badate al calendario e vi rimboccate le maniche, almeno mezza giornata, ma anche se aveste tempo libero il meteo non è esaltante, alle consuete attività all'aperto oggi preferite una pigra lune di pantofolaia, una bella dormita, un brunch preparato con amore e maestria e poi faccende o quei lavori improrogabili tra una stagione e l'altra, dedicandovi al guardaroba, per esempio, o al riordino della libreria che sembra sul punto di scoppiare, ordinandoli per titolo o autore all'occorrenza farete meno fatica a cercarli. Benessere. Se gli occhi si offuscono vuol dire che state troppo al computer o al cellulare, oppure, aperta la prima anta o peggio ancora la seconda, occorre il controllo dall'oculista. Bizze anche del fegato o del sistema ormonale, effetti transitori dovuti allo stile di vita e alla dieta, troppi fritti nel primo caso, troppa soia nel secondo. Per lei, amore per voi stesse, per il creato. E che dire del vostro quattro zampe, il vostro pellucche che coccolate come un figlio. Bagnetto e cure speciali anche per lui, quanto alla pappa nulla da aggiungere, gourme tutti i giorni, dal venerdì alla lunedì. Per lui, focus sulla salute, non solo la vostra, ma quella del pianeta che vi ospita, se va in malora lui andranno in malora tutte le creature, animali e umane, che lo abitano e da lui dipendono per respirare, muoversi, nutrirsi? Ma come fanno in tanti a non capirlo ancora? Lo capirebbe perfino un sasso. Colore delle emozioni, verde mela. Barometro dell'umore, varabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.